Allora, ciao, io sono Antonello Tonna, pianista, cantante, già ho più pianista che cantante, e ho iniziato a fare piano bar, a iniziare questo bellissimo mestiere nel 1980, però nelle 70 già suonavo con i gruppi a Catania, da piccolino che suono, perché mio padre suonava il pianoforte, e che devo dire? Devo dire che mi piace il jazz, mi piace la bossa nova, mi piace tutto quello che è groove, tutto quello che è solo, quindi la musica, la musica, diciamo, la musica solo, ritmo in blues, appassionato di James Brown, Michael Jackson, ascoltavo musica di The Vita Report, di Key Jarrett, ascolto Bollani, ascolto pianisti jazz, faccio il piano bar appunto dall'80, già l'ho detto, ho lavorato in tutti gli alberghi migliori, tutti i posti molto belli, Monte Carlo, Capri, Cortina, Madonna di Campiglio, Sardegna, lavoro a Taormina da tantissimi anni, gli alberghi a Taormina, mi piace fare il piano bar, mi piace questo lavoro, perché? Perché contatto con il pubblico, quindi contatto con... mi piace dare benessere a chi mi sta davanti, quindi tramite la musica, che io ringrazierò sempre di avere questo dono che mi ha lasciato mio padre, tramite la musica io mi esprimo e cerco di dare benessere alla gente che sta di fronte e dare più che altro una bella armonia, questa parola che non si usa quasi mai, ma l'armonia è importante in tutto il nostro percorso della vita. Che devo dire? Sono contento di fare questo casting con The Voice, spero di divertirmi, di incontrare della gente simpatica, di incontrare dei colleghi, e lo sto facendo per questo, per una nuova esperienza e nuovi stimoli che ci fanno bene per il nostro percorso musicale. Ciao!